Roma, il mistero della porta alchemica. Nel centro di piazza Vittorio Emanuele II a Roma, i resti di un'antica villa rivelano un misterioso monumento, la porta alchemica, a volte chiamato semplicemente porta magica o porta ermetica o porta dei cieli, che per molti rappresenta un collegamento tra il mondo reale e quello segreto dell'alchimia del 1600. La porta alchemica di piazza Vittorio Emanuele II sorge sull'esquilino ed è decisamente un luogo da visitare a Roma. Il misterioso monumento nel parco, al centro dell'enorme piazza di Vittorio Emanuele II, è l'unica delle cinque porte di Villa Palombara, costruita tra il 1655 e il 1680 da Massimiliano Palombara, maschese di Pietraforte, noto alchimista romano. Villa Palombara, come altre ville della zona, fu distrutta per favorire lo sviluppo del quartiere squilino, ma la porta, probabilmente per il mistero che l'accompagna, è stata salvata. La porta alchemica presenta ancora oggi una serie di incisioni, usate in passato in alchimia, che hanno contribuito ad alimentare il mistero sul celebre monumento di piazza Vittorio Emanuele II. La porta magica di Roma, secondo la leggenda, è attribuita al famoso alchimista Francesco Giuseppe Borri, che fu ospitato una notte a Villa Palombara, con l'obiettivo di elaborare la formula in grado di trasformare un tipo di erba in oro. Il marchese aveva scorto il pellegrino nei suoi giardini alla ricerca di questa particolare erba e, avendo intuito le doti di alchimista di Borri, lo invitò a restare da lui e a lavorare nel suo laboratorio. Al mattino, secondo alcuni racconti, Borri fu visto sparire attraverso la porta dei giardini della villa, lasciandosi alle spalle una pagliuzza d'oro, probabilmente frutto delle sue ricerche, con accanto un foglio pieno di formule. Per Palombara, Borri aveva trovato la leggendaria Pietra Filosofale. Il marchese di Pietraforte fece quindi incidere sulla porta, dopo tale avvenimento, le varie formule e iscrizioni riportate sul foglio, nella speranza che qualcuno, un giorno, fosse in grado di decifrarle. Le incisioni presenti sulla porta alchemica si rifanno tutte ad illustrazioni presenti in libri alchemici ed esoterici del Seicento. Il simbolo posizionato sopra l'architrave si chiama Sigillo di David, un grande elemento sferico con un doppio triangolo, a sei punte, ed è accompagnato da altri piccoli simboli planetari, ciascuno associato ad un metallo e ad un criptico motto. L'incisione attorno al sigillo di David recita Alla base della porta è riportata una frase palindroma Si sedes non is, se siedi non vai, che può essere letta anche come si non sedes is, se non siedi vai. Il simbolismo in generale è la transizione storica che ha portato a superare il cristianesimo e sostituirlo con nuove credenze e nuovi modi di trattare lo spirito. La misteriosa natura della porta alchemica è accentuata dalla presenza di nani mostruosi ai lati del monumento che sono stati di recente riconosciuti nel semidio Bess, un'antica figura oracolare e demoniaca. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie!